Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRMH24. Lunedì si torna in presidenza del Consiglio. Ancora un tavolo tra i sindacati e governo sulla vertenza Exilva. Intanto l'amministratore delegato si difende dalle accuse dei sindacati e querela il segretario Wilm per le sue dichiarazioni alla Repubblica. Sentiamo. Da una parte ci sono i sindacati metalmeccanici fermi sulla necessità di far fuori Mittal e di procedere con l'amministrazione straordinaria di Acciaieri d'Italia. Dall'altra i rappresentanti dei lavoratori dell'indotto, AIG nel particolare, che nel commissariamento vedono l'irrimediabile fine delle imprese. In mezzo, in entrambi i casi, i lavoratori e i tarantini tutti, parlando di un'avvertenza che pesantemente impatta anche su ogni ambito sociale. Si terrà lunedì 19 febbraio l'ennesimo tavolo alla presidenza del Consiglio. Alle 19.15 i segretari generali di FIOM, FIM, Wilm, USB e UGLM incontreranno di nuovo i rappresentanti del governo. Incontreremo sia le aziende dell'indotto che i sindacati metalmeccanici con i quali abbiamo svolto un'interlocuzione per informare gli attori interessati al rilancio dell'Exilva sui passi che ci apprestavamo a fare. Lo dichiara il ministro Urso in videocollegamento con la tavola rotonda su innovazione, ricerca e formazione per la qualità delle produzioni e del lavoro organizzata da CGL Bari. La prossima settimana, aggiunge, inizieranno le votazioni in commissione sugli emendamenti e i due decreti integrati che riguardano Acciaierie d'Italia e soprattutto l'indotto con i lavoratori e le aziende che abbiamo messo sotto copertura di un strumento di cassa integrazione che spero si possa migliorare, sottolinea Urso, anche con il contributo delle forze politiche rappresentate in Parlamento. Il tempo è davvero al limite, avvertono intanto sindacati e confindustria, il degrado degli stabilimenti è insostenibile. E, ha dichiarato in un'intervista a Repubblica il segretario Wilm Rocco Palombella, Morselli in Parlamento ha detto solo bugie, affermazione che gli ha fatto rimediare la querela dell'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia. E' la seconda volta che la D tenta e pensa di intimidirmi per delle critiche alla sua gestione, alle sue parole dette in audizione al Senato. E' intanto questa, la replica di Palombella, giunta proprio alcuni minuti fa alla nostra redazione. La situazione drammatica in cui versano i lavoratori degli stabilimenti Exilva è purtroppo sotto gli occhi di tutti, tranne di chi amministra l'azienda da oltre quattro anni. E' palese la mancanza di trasparenza e informazioni sulla qualità di materie prime e quantità di materie prime presenti a Taranto e sulla possibilità di continuità produttiva ormai ridotta a giorni, sulla prospettiva occupazionale, sulla sicurezza e sull'ambiente, ha scritto. E cambiamo adesso argomento. Continua la protesta degli agricoltori della provincia di Foggia. Decine di trattori hanno invaso la Statale 16 sia verso Termoli sia in particolare in direzione sud, partendo proprio da Borgo Incoronata. Vediamo. Sono partiti con i loro trattori dal piazzale del santuario dell'Incoronata per congiungersi agli altri nella zona sud del Foggiano e accodarsi in corteo sulla Statale 16. Gli agricoltori downi lo avevano preannunciato. La protesta dei presidi e dei trattori non si ferma. Dobbiamo ancora risolvere alcuni problemi riguardando gli articoli di legge 198 e 192 che sono delle pratiche sleali e più il caporalato. Le aperture del governo sono un piccolo risultato ma non basta e agricoltori insistono su maggiori tutele contro l'invasione di grano e prodotti dall'estero e sulla protezione del Made in Italy. Il governo può fare ancora di più oltre i primi risultati che ci sta dando però questa è semplicemente una manifestazione pacifica che stiamo facendo. Noi pensiamo che è un piccolo passo del governo verso questa protesta. Se i risultati saranno ancora negativi e negativi qualcosa succederà. Il dialogo con il governo è una serie di messaggi lanciati al ministro Lollobrigida. Un ponte con la protesta romana. Dobbiamo combattere per il Made in Italy non solo sulla qualità del prodotto che viene importato ma anche sulla quantità delle merce stoccate nei propri siti italiani. E poi arrivano questi prodotti dall'estero che ci impongono di mangiarli senza tracciabilità, senza niente. Così libero mercato. Non va bene. Se dobbiamo essere combattenti dobbiamo essere combattenti con le stesse armi pari. Una cosa gli agricoltori tengono a sottolinearla. Non sono soli nella loro protesta. Però dietro di noi c'è tutto il popolo italiano che ci sostiene e ci incoraggia. E continuiamo a parlare delle proteste degli agricoltori per le imprese e i lavoratori. Bisogna salvare l'agricoltura. Nel nostro focus in onda questa sera a partire dalle 20.30 il racconto di quello che sta accadendo nel mondo agricolo con il segretario generale della Willa Puglia. Pietro Buongiorno. Guardiamo un po'. Cosa sta accadendo al mondo agricolo? Dalle proteste dei trattori che stanno invadendo le strade di tutte le città italiane alle direttive a volte troppo stringenti dettate dall'Unione Europea per tutelare l'ambiente e raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Abbiamo fatto una panoramica del settore insieme al segretario generale della Willa Puglia, Pietro Buongiorno, ospite negli studi di TRM Network, spiegando come imprenditori e lavoratori lavorano insieme per salvaguardare l'agricoltura italiana. Partiamo dal fatto che quando una categoria protesta va sempre ascoltata. Quindi noi abbiamo gli agricoltori che sono scesi in piazza, che vivono in questo momento un disagio, manifestano questo disagio e quindi le istituzioni dovrebbero in qualche modo cercare di dare delle risposte. Non ci sono posizioni contrapposte tra imprese e lavoratori. Abbiamo chiaramente rivendicazioni assolutamente diverse, ma l'obiettivo è unico, quello di salvaguardare e tutelare l'agricoltura della nostra regione e l'agricoltura italiana. Ci sono, a mio giudizio, alcune scelte che l'Europa negli anni ha compiuto, che hanno diminuito la possibilità, la produttività delle imprese e la loro redditività, in particolar modo sul sistema economico italiano, quindi gli agricoltori manifestano per evidenziare alcune strutture che sicuramente debbono essere corrette per cercare di dare maggiore redditività alle imprese. E questo poi si ribalta anche sulla situazione dei lavoratori, che hanno necessità di maggiori garanzie, di maggiori tutele, di maggiore salario, al fine di rispondere anche alle esigenze inflattive che stanno condizionando il nostro Paese. L'intervista integrale del segretario sarà trasmessa questa sera nel nostro Focus, a partire dalle ore 20 e 30. E sono stati inaugurati questa mattina all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari i nuovi ambulatori di oncologia medica. L'intero piano, che fino a poco più di un anno fa ospitava gli uffici della direzione strategica, accoglie adesso sei sale per le infusioni chemioterapiche, per un totale di 25 poltrone di infusione, 12 ambulatori per le visite e i consulti, un'ampia sala d'attesa con un sistema centralizzato per l'accettazione. Nell'occasione è stata anche presentata una nuova TAC. Si tratta di un tomografo computerizzato a 128 strati che consente di usare più basse dosi di radiazioni, garantendo immagini diagnostiche sempre più dettagliate. La nuova TAC sostituisce un apparecchio in uso dal 2010. E proprio questa mattina all'inaugurazione era atteso il Ministro della Salute Orazio Schillaci, presente a Bari per un evento che si terrà questa sera al Teatro Piccini. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato l'assenza del Ministro. Avevamo preparato una bella accoglienza. Ascoltiamo le sue parole. E a Bari, ma non riusciamo a incontrarci, nel senso che aveva indicato come luoghi di possibili visite il Policlinico, il San Paolo e l'Oncologico, ma non ci ha detto neanche ora, né se sarebbe davvero venuto oppure no. Ho provato a raggiungerlo al San Paolo, dove ovviamente mi hanno dato notizia dal pronto soccorso che era arrivato, ma non ho fatto in tempo a raggiungerlo. Mi dispiace perché avevamo preparato sia qui che al Policlinico che al San Paolo la migliore delle accoglienze possibili. Non capisco però davvero per quale motivo un'autorità così importante non abbia organizzato un po' meglio la visita. Comunque nulla di grave, nel senso che noi siamo a disposizione del Ministro, con grande rispetto, e non possiamo che prenderne altro. Comunque qui abbiamo un importantissimo convegno, dobbiamo inaugurare alcune strutture importanti, ci sarebbe stata l'occasione di fare l'inaugurazione con lui, ma ogni uomo, ogni governo ha il suo stile e noi dobbiamo adeguarci. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Molfetta hanno dato esecuzione ad una nuova ordinanza di misura cautelare nei confronti degli ultimi due presunti responsabili dei disordini avvenuti nella cittadina del Barese la sera di Capodanno. Durante quella notte di follia, otto ragazzi, tra cui tre minorenni, avevano seminato il panico tra le vie cittadine, capovolgendo e vandalizzando anche un'autovettura in sosta, colpita dal lancio dei numerosi petardi ed ordini artigianali nel tentativo di darle fuoco. I responsabili sono stati individuati dagli inquirenti, anche per mezzo dei video dell'accaduto, registrati da loro stessi e divenuti poi virali sul web. Gli inquirenti hanno acquisito e analizzato una moltitudine di filmati fino a riuscire ad identificare gli ultimi due presunti responsabili dei disordini rimasti inizialmente non identificati. Insieme ai loro compagni, questi ultimi dovranno rispondere ora del reato di pubblica intimidazione con uso di ordigni e materiale esplodente. E poi ancora la cronaca. Nel Tarantino la Guardia di Finanza ha individuato diverse attività commerciali, tra cui imprese edili e venditori di pneumatici che pagavano in nero i lavoratori. Le violazioni sono state riscontrate nei comuni di Manduria, Martina Franca, Grottaglie, Castellaneta, Palagiano e Ginosa. In tutto sono 16 dipendenti che venivano retribuiti con modalità non tracciabili, 12 invece i titolari responsabili delle irregolarità. In quattro casi la Guardia di Finanza ha chiesto la sospensione dell'attività delle imprese, su cui adesso si esprimerà l'Ispettorato territoriale del lavoro. E cambiamo adesso argomento innovazione, ricerca e formazione. I tre capisaldi per una buona e competitiva occupazione nel sistema imprese del Sud Italia. Questo è il tema della seconda giornata del seminario organizzato da CGL Puglia sulle politiche industriali nella quale è intervenuto anche il Ministro Adolfo Urso. Vediamo. Siamo convinti che una qualsiasi strategia di ripresa economica, specie al Sud, non può che partire dal consolidamento e allargamento delle attività manifatturiere, perché rappresentano un motore di cambiamento tecnologico. Spiega così la segretaria della CGL Puglia, Gigi Abucci, la due giorni seminariale promossa assieme alla Fondazione Rita Maierotti. Innovazione, ricerca e formazione, i tre capisaldi per una buona e competitiva occupazione nel sistema impresa. Sono i tre punti che mettono al centro il lavoro, perché spesso si ragiona del lavoro industriale e delle conseguenze della transizione digitale ed ecologica, senza comprendere invece che il paradigma è esattamente l'inverso. Sono i lavoratori che fanno la transizione ecologica e digitale e quindi non possono essere quelli che poi dopo pagano il prezzo della transizione. Quindi bisognerebbe che le imprese mettano a disposizione le risorse per l'innovazione, che ci sia un contributo pubblico, ma che ci sia anche la garanzia, che ci sia lavoro e lavoro buono, in particolare nel mezzogiorno. Durante la mattinata l'intervento del ministro Adolfo Urso, che pur considerando le criticità del territorio, ha evidenziato prospettive ottimistiche. I investimenti nel nostro sud sono aumentati, sono cresciuti di 4 punti in percentuale nel 2023, lo scorso anno, rispetto al 2022, e di ben 17 punti rispetto al periodo pre-covid, cioè al 2019. Quindi si vede, si nota, e noi lo notiamo qui al ministero, che sempre più investimenti di altri imprenditori di altre regioni e tanto più investimenti esteri stanno dirigendo, si hanno focalizzato la loro attenzione sulle aree industriali del mezzogiorno. Al Politecnico di Bari è stato inaugurato il nuovo display per conoscere in tempo reale l'energia prodotta proprio all'interno del campus. L'iniziativa è in occasione dell'edizione 2024 di Millumino di Meno, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Vediamo. In occasione dell'edizione 2024 di Millumino di Meno, giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al Politecnico di Bari è stato inaugurato il display per conoscere in tempo reale l'energia prodotta al campus. Lo schermo, installato nell'atrio Cherubini, renderà quotidianamente visibili a studenti, docenti, personali amministrativo e visitatori i dati relativi alla potenza istantanea, alla CO2 risparmiata e all'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Ho previsto un investimento di quasi 2 milioni di euro, tra cui appunto la realizzazione di tre impianti fotovoltaici, uno presente qui al campus, uno presso le officine politecniche e l'altro presso l'amministrazione centrale. Un totale alla potenza installata è di circa 512 kilowatt. Qui al campus l'impianto ha una potenza di 198,4 kilowatt. Efficientamento energetico quindi per garantire politiche di risparmio e di riduzione dei costi, grazie al contenimento e al monitoraggio dei consumi nel rispetto della sostenibilità ambientale. Di recente, anche grazie a un contributo della Regione Puglia, abbiamo potuto efficientare l'Aulamagna, il Corpo Azzieta, attraverso anche un impianto di climatizzazione a forte riduzione di consumo energetico. Quindi temi che non rappresentano solo oggetto di studio, di ricerca, di didattica, che siamo un politecnico e quindi gestiamo materie tecnico-scientifiche, ma che testimoniano anche un impegno concreto affinché si vada nella direzione del rispetto della sostenibilità ambientale che ci vede particolarmente sensibili. Alvia la seconda edizione di Polibus, il tuo talento, la tua strada. Il laboratorio STEM è itinerante promosso da Scuola Attiva Onlus e Politecnico di Bari. Incontrare i giovani nelle aree più periferiche del paese, sostenere il sistema scolastico italiano nel contrasto alla povertà educativa con una particolare attenzione alle donne e alle materie STEM. E questo è l'obiettivo della seconda edizione di Polibus, il tuo talento, la tua strada. Il laboratorio STEM itinerante promosso da Scuola Attiva Onlus e Politecnico di Bari. Un tour di 15 tappe che porterà laboratori innovativi in 11 città di Basilicata e Puglia, coinvolgendo oltre 2000 studenti e studentesse. Oggi parte la seconda edizione di Polibus e non solo va a rincorrere oppure va a incontrare le fasce di studenti delle medie superiori, delle terze, quarte e quinte, ma soprattutto incontra i territori. Ecco perché è un bus che percorre delle strade e incontra non solo studenti che vogliono conoscere gli aspetti anche più rappresentativi del Politecnico, ma le comunità intere. Al via dunque la nove giorni del bus a due piani, appositamente attrezzato con cinque laboratori mobili che percorrerà 700 chilometri, nell'intento di far vivere agli studenti un'esperienza immersiva nelle materie tecnico-scientifiche e attivare scelte consapevoli legate al proprio futuro e al proprio percorso di studi. È un'esperienza significativa perché lo studente entra a contatto con l'esperienza e quindi riusciamo ad intraprendere quella fase anche di sensibilità dello studente, la passione, l'aspettativa, attraverso l'esperienza. Per cui ci sono delle fasi teoriche e poi delle fasi di sperimentazione. Parliamo ora di artigianato e commercio. Questo il tema di un incontro ieri a Matera promosso da CNA per conoscere da vicino i vantaggi del concordato preventivo biennale. Ascoltiamo. Comprendere i benefici e le implicazioni del concordato preventivo biennale nella sala conferenze di CNA Matera è un incontro informativo dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di imprese, di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato che possono beneficiare del concordato preventivo biennale. È una misura che prevede un accordo tra l'Agenzia delle Entrate e gli imprenditori in base ai quali viene predeterminato il reddito sul quale andare a pagare le imposte. È uno strumento sperimentale, potrebbe essere di interesse per i tanti artigiani e i tanti commercianti. Naturalmente va fatta una valutazione caso per caso, motivo per cui bisogna affidarsi proprio poi ai professionisti di riferimento di ogni singola azienda. La nostra è solo un'iniziativa di carattere informativo e divulgativo. Gli ISA sono degli indici di affidabilità fiscale, sono un'evoluzione degli studi di quelli che sono stati una volta gli studi di settore. Questo strumento trova adesso una via di sbocco per l'erario nel tentativo di ampliare quella che loro chiamano l'attività di complianza e quindi coinvolgere i contribuenti ad aderire a questo strumento, contribuenti ovviamente soggetti a questi indici di affidabilità fiscale, nel tentativo di raccogliere appunto una larga adesione a questo nuovo strumento che è il concordato preventivo biennale di cui però non si sa tantissimo in quanto il software per l'elaborazione della proposta ai contribuenti è ancora in fase di attuazione, sarà disponibile credo da metà giugno. La proposta verrà fatta ai contribuenti entro il 15 ottobre. Non c'è possibilità di contraddittorio per cui i contribuenti o aderiranno oppure no. Si tenga presente che lo strumento è rivolto alle imposte dirette, quindi tutta la parte relativa alle imposte indirette IVA per prima non rientra appunto nel concordato preventivo biennale. Parliamo adesso di lavori pubblici a Taranto dove si procede con il waterfront del Mar Piccolo ma intanto è stato assegnato lo studio di fattibilità per l'affaccio dal Mar Grande. Vediamo. Sarà la società AIPRO di Roma ad elaborare lo studio di fattibilità tecnica ed economica del waterfront del Mar Grande di Taranto, compito assegnato per un importo di 137 mila euro dalla direzione urbanistica del comune di Taranto a inizio febbraio come spiegato in un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ammonta invece a circa 4 milioni di euro il costo complessivo degli interventi per la riqualificazione dell'affaccio sul Mar Grande nel tratto che va dalla Scarpata alla spiaggia di Lido Taranto alle gallerie di Viale Virgilio numero 14. Risale al biennio 2018-2020 l'idea progettuale con l'ammissione della candidatura da parte dell'amministrazione Melucci e dell'autorità portuale a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. Da programma sono 5 gli interventi in tutto per complessivi 33 milioni di euro, 17 dal Ministero e 16 milioni di euro a disposizione già dell'autority. Quanto al waterfront sul Mar Piccolo intanto i lavori procedono regolarmente almeno secondo quanto emerso in Commissione Consigliare Garanzie e Controllo e l'intervento potrebbe terminare per la fine di marzo. E ora con la nostra pagina dedicata agli spettacoli prosegue la quinta edizione della rassegna Molfetta in prosa organizzata dalla compagnia Il Carro dei Comici. Sabato 17 febbraio al nuovo Teatro del Carro andrà in scena lo spettacolo Il mio brillante divorzio. Sentiamo. Una commedia brillante incentrata sul tema della sopravvivenza con ironia ad un divorzio e di come si possa reinventare la propria vita da singola al femminile a 50 anni. Si intitola Il mio brillante divorzio e dello spettacolo della compagnia Teatro Belli di Roma per la regia di Carlo Emilio Lerici che andrà in scena sabato al nuovo Teatro del Carro di Molfetta nell'ambito della quinta edizione della rassegna Molfetta in prosa con la direzione artistica curata da Francesco Tammacco e l'organizzazione della compagnia Il Carro dei Comici. Protagonista sul palco è Francesca Bianco con in video Susi Sergiacomo, Fabrizio Bordignon, Martina Gatto, Germano Rubbi, Antonio Palumbo. La regia video è di Enzo Aronica. Lo spettacolo, scritto dalla drammaturga irlandese Geraldine Aron, racconta di Angela e di suo marito Max, soprannominato Palla da Biliardo, che l'ha lasciata per la sua amante 25enne argentina. Rimasta sola con l'unica compagna del suo cane Jack, Angela deve imparare a fare i conti con la sua nuova condizione di singola involontaria. Alternando la rabbia nei confronti del marito traditore, agli attimi di gioia per la libertà ritrovata, la speranza per un'eventuale riconciliazione e la riluttanza nel firmare le carte per il divorzio, Angela provoca risate e commozione mentre racconta delle sue avventure per ricostruire la propria vita. Una commedia che a partire da una storia semplice e comune affronta con leggerezza i temi della solitudine, della genitorialità e della ricostruzione della propria identità. Fa tappa al Circolo Tennis di Bari, la Coppa Davis conquistata dall'Italia 47 anni dopo l'ultimo successo. Vediamo. Prosegue dal Circolo Tennis di Bari il Trophy Tour, il tour della Coppa Davis che sta attraversando l'Italia per permettere a tutti gli appassionati di toccare con mano il prestigioso trofeo. L'insalatiera conquistata dall'Italia dopo 47 anni è stata esposta nella sala massari del comune di Bari fino a mercoledì scorso e ora è nel salone del Circolo dove resterà fino a questa sera per essere poi trasportata nella mattinata di domani al comune di Taranto. Un'emozione grandissima anche perché in questi giorni stiamo vedendo veramente tanta gente che ha la voglia di venire qui al Circolo e di poter vedere da vicino la famosa insalatiera. Noi come Circolo l'abbiamo ospitata nel 64 e nel 91 con due vittorie importanti dell'Italia. Nel 91 c'era il capitano Adriano Panatta e io noto che adesso veramente c'è un'attenzione incredibile al mondo tennistico. Sul successo azzurro dopo 47 anni oltre al fenomeno Sinner per Virgintino c'è il gruppo. È una squadra compatta composta da ragazzi meravigliosi io naturalmente li vedevo in televisione ho visto che c'è tanta complicità tra di loro ed è bello questo, no? Eppure sono giocatori che scendono in campo poi per vincere anche singolarmente per scalare la classifica mondiale però quando si indossa la maglia azzura secondo me loro sono stati meravigliosi in questo. E questa era la nostra ultima notizia l'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.